cari amici di tutto udinese vi invito a condividere questo video perché arrivi a chi di dovere e sia chiaro che non voglio tediarvi con i miei interventi e le mie opinioni ma non posso dico non posso sorvolare su quanto un celtrone raccomandato ed inetto si permette di pontificare sul comportamento dei tifosi friulani caro tavecchio presidente di una federazione italiana gioco calcio disarmante e purilmente arrogante non so come possa permettersi lei di bollare alla sua maniera i tifosi friulani per quanto successo dopo la gara con la roma tra l'altro le ricordo che il giudice sportivo di solito molto severo in certe circostanze non ha combinato alcuna sanzione ma lei con l'arroganza che la contraddistingue la impugna perché vuole giustizia quale giustizia o lei ha bevuto troppo o i suoi suggeritori li deve cambiare se è frutto della sua mente allora tutto torna come la continuazione di po big po ba o giù di lì la prego di riguardarsi per cortesia lo score del tifo friulano del tifo udinese e dell'intero friuli che lei forse non conosce per averlo se non per averlo studiato a scuola in geografia questi tifosi hanno ricevuto numerosissimi premi disciplina negli ultimi vent'anni apra il librone e controlli e poi sono convinto che non abbia capito nulla di quanto è accaduto e neppure tiene conto delle scuse di danilo che sono una chiara ammissione di colpa ma di che cosa parla presidente persino conte se ne va mi scusi ma lei è mai passato per la mente visto che lo stesso conte ha firmato per il celsi di sollevarlo immediatamente dall'incarico una volta si faceva così secondo un'etica che ha preso anche lei la via della globalizzazione caro presidente la sua gestione del calcio non mi è mai piaciuta ora con questa sua gratuita esternazione sui tifosi friulani ancora meno lei deve prendere i tifosi friulani ad esempio per tutto il resto del mondo del calcio italiano lei verrà a udine in occasione della partita dell'italia ed in quelle occasioni i tifosi avrebbero qualche motivo per indirizzarle qualche coro poco amichevole me ne faccio garante che questo non succederà perché i tifosi friulani hanno molta più dignità di lei e se non proprio applausi stia certo che la ignoreranno da queste parti le ricordo presidente siamo depositari di una civiltà che abbiamo conquistato e maturato nella storia con la storia e con sacrifici e non permettiamo ad alcuno che la metta in discussione in primis lei caro presidente tavecchio prima di dire freato ai suoi pensieri si informi e poi taccia con rispetto lorenzo petizioni friulano